Il mio tiramisù classico è una delle vostre ricette preferite e io ho voluto pensare ad una versione con la stessa cremosità estreme ma tutta la golosità del cioccolato Scopriamolo insieme Tuorli Zucchero Acqua Qualche menù di soffuoco Adesso montiamoli bene, dovranno diventare belli spumosi Mascarpone E continuiamo a montare Guardate che crema E adesso è il momento del cioccolato Montiamo anche con il cioccolato Ecco la crema Cacao Zucchero Acqua calda Perfetto Adesso assembliamo Savoiarti, inzuppiamolo Facciamo un bello strato Adesso metà della crema Ripetiamo bene Secondo strato di Savoiardi Spuntoni con la crema restante Tanti riccioli di cioccolato E questa va in frigo Dopo riposo Ecco il vostro tiramisù Davvero goloso Irresistibile E soprattutto Cremosissimo Diventerà il vostro preferito E poi Ciao Cremosissimo Spuntoni con il vostro tiramisù Chiappa Settacare il vostro tiramisù E continuato D拜 Cioccolato Adesso Cosma Settacare il vostro tiramisù Far Cremosissimo Arriesare il vostro tiramisù Settacare il vostro tiramisù Si Ecco E poi Settacare il vostro tiramisù Settacare il vostro tiramisù Dabati Grazie a tutti.